In generale, facciamo o riceviamo dei regali soprattutto in occasioni speciali. Sai cosa penso? Penso che Dio non aspetti per occasioni speciali per dare a noi queste cose speciali. Credo che Dio ci dia perché ci ama, e Lui ci ama tutto il tempo. La Bibbia dice «Ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto, e discendono dal Padre degli astri luminosi presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento». Giacomo 1,17 Caro amico, il tuo Padre Celeste ha pronte delle cose buone per te. Niente può eguagliare le cose migliori preparate per te. Niente è pari a quello che Lui vuole darti. La sua pace, la sua gioia, la sua vita. La capacità di portare a termine la missione che Lui ti ha affidato su questa terra. La forza per continuare ad essere luce nel mondo, anche quando è difficile. Sì, come dice la sua parola, ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto. Il meglio del meglio. Prego che tu possa ricevere tutto ciò che il tuo Padre, creatore delle stelle, dei cieli e della terra, ha destinato di darti oggi, caro amico. Possa il suo nome essere glorificato. Grazie ad esistere. Eric Sellerie